Sì, è vero, oggi purtroppo non voglio nominare nulla che non riguarda la nostra sconfitta dove in un'unica gara ci siamo dimenticati a non concedere situazioni da palla inattiva a non marcare su palla inattiva, a non farsi espellere quando un avversario va lanciato verso la porta e non perdere la testa a non essere concentrati al 100%, l'allenatore si è dimenticato le altre volte, riusciva a ribaltare la situazione e questa volta non è riuscito a farlo quindi le responsabilità sono di tutti, capita una giornata storta, ne potevamo approfittare per quanto riguarda l'accorciare o superare la Juve Stabia però quando nascono così storte le partite è normale che poi si fa fatica a recuperarle, abbiamo cercato di reagire ma oggi noi eravamo come hai detto te quelli soliti, riconoscibili, pazienza può capitare sono settimane e settimane che gli altri arrivano sempre dopo di noi, oggi giornata sfortunata e prendiamo atto di questo no ma chiaramente Ciccio si riferisce al fatto che oggi era difficile proporre quello che di solito proponiamo bisognava adattarsi velocemente a tutte le situazioni, loro sono stati bravi ad essere così sulle seconde palle arrivare sempre prima, cattivi con un furore diverso dal nostro e chiaramente se non metti dentro queste caratteristiche poi le partite si complicano. Ripeto ci siamo dimenticati tantissime cose, tantissime cose che ci hanno fatto gioire per 15 settimane mi auguro e cercheremo subito pronti via di ricordarci tutto quello che ci ha fatto sorridere fino ad oggi Per quanto riguarda quella del cambio di proprietà non c'entra nulla, abbiamo vinto la settimana scorsa non sono affari che ci riguardano, noi dobbiamo pensare ad altro l'azione del primo gol chiaramente è l'emblema della partita di oggi la palla che rimbalza in mezzo ai nostri difensori di solito i difensori fan fatica a far stoppare la palla, a far girare o a far prendere il pallone all'avversario oggi questo non è accaduto, giustamente ci sono anche gli avversari, si inventa un gran gol ma quella palla non deve rimbalzare più di una volta, quella palla non può viaggiare al limite dell'area dove noi non possiamo intervenire, ma ripeto come il fatto di non marcare sull'angolo come il fatto di non farsi espellere che lo sapete mi manda in bestia e quindi purtroppo oggi ho errori su errori e perdi le partite no, mi spiego e penso che noi non siamo extraterrestri stavamo facendo un grandissimo cammino, non perdendo da tantissimo tempo però chiaramente se abbassi un po' la guardia e la concentrazione noi non possiamo prescindere da questi aspetti qua è normale che quando poi trovi un avversario in palla in giornata e tu non hai queste caratteristiche vai a sopperire e vai a creare la vita meno difficile all'avversario oggi è una giornata storta, alcuni tifosi ci hanno chiamato ci hanno detto che può capitare dopo tutto quello che abbiamo fatto quindi per quanto mi riguarda archiviare e pensare subito a ripartire la settimana prossima perché ci sono ancora tanti impegni, siamo in lotta ancora nonostante questa sconfitta per tanti traguardi e tanti obiettivi e dobbiamo ripartire no, è normale che la prima cosa che dovevamo fare era adattarci al terreno di gioco che non ci ha permesso né a noi né a Francavilla di giocare in un certo modo forse loro più abituati di noi perché giocano sempre in questo campo però non è un alibi, non è una scusa non puoi a sette giornate dalla fine dire che è colpa del campo l'atteggiamento su determinate situazioni non è stato il solito e non posso dire altro che da martedì, mercoledì quando riprenderemo cercheremo di rimediare a questa brutta partita e riprendere il nostro cammino no, ma il Trapani di oggi perde con chiunque non perde né con la Viterbese che è in graspolvero né col Matera che presenta la Beretti in campo è normale che questo non può essere un atteggiamento nostro non lo è chiaramente, io penso a quello che accadrà nel senso che è un incidente di percorso può capitare, non abbiamo fatto vedere tutti questi errori in tutte queste partite e questi atteggiamenti che non sono congrui a una partita di calcio e concludo per come ho iniziato dimenticarsi di marcare, dimenticarsi di non farsi espellere l'allenatore si è dimenticato di ribaltare la situazione come altre circostanze quindi la responsabilità è più mia anche dei ragazzi perché qui la responsabilità è di tutti si gioisce tutti insieme e si hanno le responsabilità quando si perdono le partite tutti insieme questo mi sento di dire ragazzi stiamo parlando del capitano di questa squadra di un signor giocatore di un pilastro della nostra difesa quando viene a mancare un ragazzo che è praticamente l'allenatore in campo è normale che qualsiasi squadra può avere delle difficoltà io mi auguro che non sia nulla di grave nel senso di perderlo per tante partite perché avete visto l'importanza sua quale può essere veramente riprendiamo mi auguro solamente che lui non sia un infortunio grave che ce lo lasci fuori per tanto tempo perché abbiamo bisogno di lui grazie a tutti